Oggi prepariamo un vero classico della colazione, il plum cake e lo yogurt. E' alto, soffice, davvero profumatissimo. E' davvero buonissimo. Dai, iniziamo! Iniziamo la preparazione partendo dalle uova che dovremo rompere all'interno di una ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a lavorare con le fruste elettriche. Quando le uova inizieranno a prendere volume, possiamo iniziare a versare lo zucchero semolato. Lo aggiungeremo in più riprese, sempre lavorando con le fruste. Versiamo quindi l'olio di semi a filo e continuiamo a lavorare. E' il momento di aggiungere la farina 00. La aggiungeremo una cucchiaiata alla volta, sempre lavorando con le fruste. Quando ne avremo aggiunto circa metà, possiamo versare lo yogurt, nel mio caso due vasetti di yogurt all'albicocca. Terminiamo quindi aggiungendo la parte di farina 00 rimasta. Aggiungiamo ora la fecola di patate, anche in questo caso in più riprese, continuando a lavorare con le fruste. E non resta quindi che aggiungere una bustina di vanillina e una bustina di lievito vanigliato per dolci. Incorporiamo ancora con le fruste elettriche. E aggiungiamo ora la scorza grattugiata di un limone bio. Incorporeremo quest'ultimo ingrediente utilizzando una spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Il composto così ottenuto lo versiamo all'interno di uno stampo in silicone 10x22 cm, precedentemente imburrato e infarinato. E mettiamo quindi in forno per il riscaldato statico a 190 gradi per 15 minuti e poi proseguiamo a 180 gradi per 30 minuti. Una volta terminata la cottura sforniamo. Quando il plum cake sarà intiepidito, lo stacchiamo dallo stampo. E facciamo freddare del tutto. Guardate che meraviglia! Il nostro plum cake allo yogurt adesso è pronto da portare a tavola. È sofficissimo, buonissimo e un profumino super invitante. Sarà perfetto a colazione, ma anche a merenda. È davvero una ricetta da provare. Ora io come sempre vi do appuntamente alla prossima. Ciao! Per preparare il plum cake allo yogurt serviranno 4 uova, 160 g di farina 00, 60 g di fecola di patate, 2 vasetti di yogurt all'albicocca, 170 g di zucchero, 100 g di olio di semi, una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci, scorza grattugiata di un limone bio, un pizzico di sale.